Ciao a tutti amici di AVR Magazine, oggi siamo qui con questo gioco, Agent Alice, disponibile sia sul Play Store che sull'App Store, lascerò come sempre il link in descrizione, un gioco rompicapo molto carino che vi farà passare il tempo, possiamo andare a vedere le impostazioni che sono molto semplici, infatti sono solo sull'audio, sulla lingua e se vogliamo utilizzare anche la rete cellulare oltre al wifi, presenta degli acquisti in app che saranno molto obbligati a un certo punto del gioco, infatti quando finirete l'energia dovrete utilizzare le banconote che potete vedere partono da 60 fino ad arrivare a 3000 più 600 ad 85 euro, queste vi serviranno anche per gli aiuti se volete andare un po' più veloci nel gioco e ora passiamo al gameplay, come potete vedere si divide in episodi ogni episodio avrà delle scene da risolvere e queste scene vi faranno guadagnare stelle che dovrete andare a utilizzare per completare i casi in ogni scena vi toglieranno delle energie, ogni volta che la rifarete e dovrete andare a trovare gli oggetti che lui vi dice di cercare quindi esempio manette mazzuolo mattoni, colomba e il vostro punteggio dipenderà da quanto avrete fatto veloce e preciso tutto il gioco come potete vedere avete disponibile degli aiuti che vi mostrano dove è l'oggetto e degli aiuti come questo che potrete comprare con i banconote che vi tolgono direttamente degli oggetti nel caso non riuscisse a trovarli ogni volta che giocate non riceverete una stella ma dovrete giocare più volte ed è per questo che consumerete molta energia oltre a trovare gli oggetti vi verranno proposti rompicapi come risolvere dei puzzle scassinare delle serrature e tutto il resto per arrivare fino alla fine con ogni settimana un nuovo episodio per questo video è tutto ci rivediamo alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti